Manevito Rettore, del Professor Femelia, Senato Cataneo, Distinguished Guests, Dei Colleghi, Rettore, ospiti e autorità, signore e signori, viviamo in un'epoca preoccupante e quali membri della comunità scientifica e in generale della comunità accademica. Questo ci dovrebbe preoccupare parecchio. In effetti è di grande importanza riflettere su quelli che sono i valori fondamentali che nella storia hanno permesso a quella impresa fantastica che è la scienza di avverarsi. La libertà è uno di questi valori e c'è una lunga storia di lotta che gli scienziati hanno portato avanti per la libertà. E dobbiamo sempre tenerlo presente quando pensiamo a quello che dovrebbe essere il nostro ruolo e la nostra posizione nei tempi attuali. Io vorrei affrontare questa problematica da un punto di vista storico. In effetti il rapporto fra gli intellettuali, in passato gli intellettuali erano chiamati filosofi, e oggi magari li chiameremo scienziati, è la terminologia che utilizzerò oggi. Quindi il rapporto fra gli intellettuali e i governanti è stato al centro di molti dibattiti in diversi contesti storici. Contributi interessanti ci sono da parte di molti autori del corso della storia. Platone le discute in modo esplicito nel quinto libro della Repubblica, un punto di riferimento per il pensiero umano scritto 2500 anni fa. Ed ecco quello che Platone ha scritto nel dialogo fra Socrate e Glaucone. A meno che i filosofi diventino re nelle nostre città, o coloro che noi chiamiamo re o governanti, si impegnano a perseguire la filosofia in modo serio e adeguato, e a meno che filosofia e politica non si uniscano, escludendo tutti coloro che perseguono o l'una o l'altra separatamente, non ci sarà fine ai problemi che attanagliano le nostre città. Non ci sarà tregua dai mali e neppure per il genere umano, car Glaucone. Sono certo che sentite l'attualità di questa affermazione dati i tempi attuali. E nello stesso dialogo Socrate definisce i filosofi, che, come ho detto prima, adesso dovremmo chiamare scienziati. E i filosofi per Socrate sono coloro per cui la verità è uno spettacolo di cui sono innamorati. Cosa dovremmo fare in un periodo in cui le fake news sono ormai una minaccia gravissima nei confronti delle nostre attività e più in generale nei confronti della democrazia? Ma facciamo un passo avanti nella storia. Quella che noi spesso chiamiamo rivoluzione scientifica che va più o meno dal periodo in cui venne pubblicata l'opera di Copernico dei revolutionibus orbium collectium dei revolutionibus orbium celestium del 1543 fino alla pubblicazione di Principia di Newton nel 1687 ecco, questo periodo è stato un periodo di grandi progressi nella nostra complessione dei fenomeni naturali. Ma questi progressi hanno fatto ben più che permetterci di capire capire, per esempio, il movimento dei pianeti. Hanno rivoluzionato la visione di quello che è il luogo e il ruolo dell'umanità in questo universo. E così facendo hanno permesso un cambiamento senza precedenti in ogni settore della vita da quella religiosa a quella economica da quella personale a quella politica. E questo è stato possibile soltanto grazie a una base universale sulla quale costruire il progresso ovvero il metodo scientifico. Come sapete tutti i concetti proposti nel 1543 da Copernico un ecclesiasta cattolico polacco e il suo De Revoluzionibus bene, il concetto che lui proponeva era completamente diverso. Lui aveva messo il sole al centro del sistema planetario e non più la Terra. E subito dopo la pubblicazione i dominicani già stavano prendendo in considerazione un divieto dell'opera copernicana. Mentre Giovanni Calvino a Ginevra aveva pronunciato un sermone contro colui che aveva distorto il corso della natura affermando che il sole non si muove e che invece a compiere rotazioni e rivoluzioni è la Terra. Nella seconda parte del XVI secolo Tycho Brahe astronomo danese per quanto contrario alle ipotesi di Copernico insisteva sulla necessità di basarsi maggiormente sull'osservazione e ha sviluppato quindi degli strumenti più accurati proprio per quello scopo. E i risultati a cui è pervenuto sono stati fondamentali per gli importanti passi avanti realizzati poi da Keplero. Keplero lavorava a Praga con lui e nel 1609-1619 ha potuto proporre delle leggi precise secondo le quali i pianeti si muovono lungo orbite ellittiche e non circolari e il sole è proprio uno dei fuochi di questa ellisse. E questo ha consentito di costruire una pose solida a partire dalla quale proclamare la vittoria del sistema heliocentrico. L'altro passo importante fu quello di Galileo Galilei che credeva nel ruolo fondamentale della matematica in grado di descrivere l'universo come ci ha spiegato nel suo famoso saggio Il Saggiatore pubblicato nel 1623. Un altro passo decisivo è stato compiuto da Isaac Newton nel 1687 con la pubblicazione del Filosofiae Naturalis Principia Mathematica con la pubblicazione del Filosofiae Naturalis Principia Mathematica naturalmente lui propose per la prima volta una teoria generale che stabiliva le leggi di Kepler fondandole su dei principi primi. E tutto questo accadeva in un arco di 150 anni grazie al contributo di molti studiosi provenienti da diversi contesti europei in un'epoca in cui l'Europa era un territorio problematico e in cui gli scienziati non necessariamente conducevano vita facile. spesso dovevano lottare per trovare dei mecenati che li difendessero e alcuni di loro dovevano sfuggire alle persecuzioni. Il potere che le autorità religiose esercitano in alcune società a volte anche al loro interno a volte insieme al potere politico aspetto che è ancora con noi tuttora può far sì che queste istituzioni mettano in discussione la libertà di pensiero che è al cuore dell'iniziativa scientifica. Lo sviluppo di nuova conoscenza può mettere in discussione dei concetti che vengono visti come centrali per la religione da parte del clero. E ci sono esempi famosi di questo tipo nella storia. Nel 1600 Giordano Bruno fu bruciato a rogo dall'inquisizione per la sua posizione. Galileo Galilei perseguitato dall'inquisizione perché diffondeva l'idea di Copernico. le sue affermazioni erano considerate assurde nella filosofia e formalmente eretiche dal momento che contraddicevano esplicitamente in molti luoghi il senso delle scritture sacre. Galileo dovete abbiurare ma fu costretto a vivere fra le quattro mura domestiche. sarebbe un errore credere che queste ovvie forme di limitazione della libertà siano le uniche a dover essere prese in considerazione in questo contesto. Ci sono altre forme più implicite più insidiose e in anni recenti sono state molte le situazioni in cui queste forme di controllo si sono manifestate. Ci sono attori che preferiscono agire nell'ombra e possono servire molti sforzi per scoprire le manovre di coloro che agiscono nell'ombra. L'industria è senza dubbio un settore molto potente la cui attività può risentire delle scoperte della scienza e l'industria può attivare diverse modalità d'azione. può supportare coloro che sono in grado di contrastare le scoperte della scienza che per loro potrebbero essere dannose. E questo è un caso frequente ad esempio il danno alla salute provocato dal fumo o ancora le campagne per mettere in discussione la veridicità del cambiamento climatico. Ma l'industria può anche operare un attacco diretto nei confronti di coloro che producono la conoscenza e spesso grazie all'aiuto di media compiacenti. che mi porta a un'altra dimensione del mio intervento di oggi ovvero quel pilastro di libertà che è rappresentato dalla stampa. Naturalmente oggi bisogna ampliare questa prospettiva per tenere conto anche dell'impatto dei social media social media a cui partecipano moltissime persone provenienti da background estremamente diversi che sono in grado di esprimersi rapidamente spesso dando adito a scambi frenetici a volte difficili da controllare e devo dire di essere esposto a questo tipo di informazioni e di scambi quotidianamente e tuttavia non dovremmo dimenticare che non è un fenomeno del tutto nuovo perché nel passato ci sono state situazioni in cui gli scienziati hanno usato dichiarazioni pubbliche per chiedere l'attenzione dell'opinione pubblica e talvolta in maniera non opportuna. Un esempio drammatico di questo abuso realizzato dagli scienziati l'abuso di quello che è il loro dovere di dire la verità è avvenuto in ottobre 1914 è avvenuto nell'ottobre del 1914 un anno critico della storia umana. Il 4 ottobre 1914 il 4 ottobre del 1914 93 importanti scienziati tedeschi studiosi e artisti tra cui tra cui il fisico Max Planck e il matematico Felix Klein hanno pubblicato un proclama conosciuto oggi come il manifesto dei 93 il titolo il titolo originariamente era manifesto al mondo civilizzato una protesta contro quello che gli autori ritenevano fossero menzogne menzogne circa il ruolo che la Germania aveva avuto nel dare il via alla prima guerra mondiale e giustificavano il motivo per cui la Germania aveva invaso il Belgio neutrale e denunciavano la brutalità delle azioni delle truppe che la Germania aveva incontrato in Belgio chiaramente voleva essere un intervento da parte di figure che meritavano agli occhi dell'opinione pubblica tutta la fiducia e vediamo adesso due brani di questo manifesto gli eventi hanno dimostrato la menzogna della sconfitta tedesca rappresentazioni errate e calunnie sono in corso noi alziamo le nostre voci contro queste menzogne ma cosa ancora più interessante è che uno dei firmatari Wilhelm Forster ben presto si pentì di aver firmato questo documento e insieme al fisico Georg Friedrich Nicolai crea un altro manifesto alternativo manifesto agli europei solo Otto e Albert Einstein si dichiararono pronti a firmarlo e non fu pubblicato all'epoca ed è stato poi menzionato e portato alla luce da Einstein e vorrei leggervi alcuni passaggi di questo secondo manifesto perché è un documento che testimonia di lungimiranza e di grande umanità e cito vogliamo solamente sottolineare da un punto di vista di principio che siamo convinti che sia arrivato il momento in cui l'Europa debba agire unita per difendere il proprio territorio i suoi abitanti e la sua cultura noi crediamo che la volontà di agire in questo senso sia presente in molti a questo sopo appare necessario che tutti coloro che hanno a cuore la civiltà europea in altre parole tutti coloro che secondo le parole di Goethe possono essere chiamati buoni europei uniscano le loro forze dopo tutto non dobbiamo rinunciare alla speranza che la voce collettiva nonostante il clamore delle armi non passa inascoltata soprattutto se fra questi bravi europei di domani troveremo coloro che godono della stima e dell'autorevolezza fra i loro pari e tuttavia in primo luogo è necessario che gli europei si uniscano e se come speriamo possono essere trovati abbastanza europei in Europa in altre parole europei per cui l'Europa non sia esclusivamente un concetto geografico ma piuttosto un oggetto di affetto allora cercheremo di creare un'unione degli europei e questa unione potrà parlare e potrà decidere riuscite a immaginare che questo manifesto è stato scritto in un momento in cui era in pieno svolgimento la prima guerra mondiale e non in un paese neutrale ma a Berlino il cuore della Germania uno dei principali attori della prima guerra mondiale e non è forse bellissimo che siamo riusciti a vedere l'avverarsi di questo sogno europeo con l'Unione Europea ci sono altri casi in cui gli scienziati sono intervenuti in senso negativo e hanno interagito in senso negativo con il potere politico si pensa ad esempio al periodo della biologia sovietica di Trofim Lysenko i suoi risultati i suoi risultati i risultati e il suo lavoro erano messi in discussione ma quello che gli ha fatto guadagnare il rispetto e il potere è stato il sostegno che riceveva da Josip Stalin che gli rafforzò denunciando quelle che erano le precedenti teorie in quanto borghesi mentre le proprie erano proletarie riuscì a rimanere al potere fino ai primi anni 60 e questo è un caso in cui lo scienziato utilizza il proprio rapporto con il potere politico per ottenere il controllo degli sviluppi della comunità scientifica e tutto questo accadeva all'interno in realtà di una organizzazione piuttosto peculiare della società che consentì questo tipo di sviluppo un altro limite alla libertà che non dobbiamo dimenticare è il potere della struttura gerarchica gli scienziati stessi fanno parte di un sistema che adotta decisioni sugli esseri umani naturalmente non dobbiamo dimenticare il sistema della peer review che decide quali sono gli articoli che possono essere pubblicati o ancora stabilisce quando è che un articolo è pronto per essere pubblicato dopo eventuali revisioni è una situazione tipica in cui la gerarchia esercita il proprio potere e questo momento è proprio quello di una promozione o di una nomina ho mostrato la capacità straordinaria di alcuni scienziati di mantenersi a galla rispetto alla mutevole realtà degli eventi durante l'illuminismo si instaurava una serie di condizioni che permise a una comunità trasnazionale di brillanti pensatori comunità nota come la Repubblica del Lettere di far circolare liberamente scritti ed idee ed idee e questa Repubblica è stata in grado di sopravvivere anche ai climi più rigidi non dovremmo mai dimenticarlo in un'epoca in cui i governi vogliono orientare il lavoro che viene svolto nei laboratori del loro paese o vogliono limitare la libertà di discorso e circolazione degli scienziati o più in generale dei loro cittadini di recente in Europa è stata chiusa un'università la Central European University noi dobbiamo prendere in considerazione la lotta per la libertà scientifica portata avanti dagli scienziati perché è un tema fondamentale l'interazione fra ricerca di base progresso tecnologico ed economia è un'interazione variegata e complessa è vero comunque che il progresso tecnologico richiede una combinazione di ricerca di base curiosity driven e applicata e i politici devono riconoscerlo per capire perché possiamo tornare alla fondazione del metodo scientifico nell'opera pubblicata nel 1620 da Bacone Novum Organum Bacone sosteneva che la natura può essere comandata soltanto ubidendole in altre parole l'umanità può dirigere o governare l'opera della natura per arrivare ad alcuni specifici risultati ma per farlo occorre capire come funziona la natura e la senatrice Cattaneo ce ne ha dato un esempio straordinario e Bacone sosteneva e cito di nuovo l'umanità può sollevarsi al di sopra dell'impotenza della povertà e della miseria arrivando a una condizione di pace prosperità e sicurezza e rispetto a quella che era l'età in cui Bacone pronunciò queste parole senza dubbio ha avuto ragione e speriamo che le sue parole non siano dimenticate da molti di noi in modo particolare dagli ambienti politici la situazione attuale mostra di essersi discostata in modo significativo da questa condizione di pace prosperità e sicurezza a cui Bacone fa riferimento e vorrei ritornare al modo in cui noi scienziati affrontiamo il tema della libertà al nostro interno sono convinto che un sano sistema scientifico abbia bisogno della diversità la ricerca quella dal maggiore impatto supera quelli che sono i confini fra discipline non possiamo chiedere libertà scientifica ai nostri finanziatori e poi essere troppo conservatori nel nostro approccio nel nostro modo di prendere decisioni la qualità dei meccanismi di selezione del nostro sistema è uno dei fattori più importanti pertanto i reviewer e i board di promotion devono adottare un atteggiamento di grande apertura e il mondo deve appoggiarli ci deve essere un senso di apertura una mentalità aperta senza aderire a una scuola di pensiero troppo rigida questo è il prezzo da pagare perché la libertà si affermi all'interno della nostra comunità e vorrei avvicinarmi alla conclusione innanzitutto come avete capito da quanto ho detto credo che la nostra comunità abbia un'enorme responsabilità di alzare la voce di far sentire la propria voce in favore della libertà perché la libertà è un elemento fondamentale per lo sviluppo della scienza così come dimostrato da secoli di storia in secondo luogo dobbiamo stare attenti perché dall'esterno non provengono soltanto minacce dobbiamo anche preoccuparci di quelli che sono i limiti all'interno della nostra comunità alla libertà perché anche all'interno della nostra comunità ci sono delle lotte di potere e in terzo luogo non possiamo essere troppo ingenui dobbiamo agire insieme insieme ad altri settori della società ogni volta che subiamo un attacco nei confronti della nostra libertà ad esempio individui perseguitati per le loro opinioni o la chiusura di istituzioni accademiche dobbiamo rimanere vigili perché i tempi sono preoccupanti come ho detto all'inizio del mio contributo non dobbiamo essere compiacenti grazie 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 a tutti grazie a tutti